buongiorno e benvenuti in questo nuovo video ok allora oggi trasformeremo questa ennesima door face che ho trovato in in non ve lo dico sorpresona e gli attrezzi sono sempre i soliti quelli che ci serviranno per questa trasformazione questo è l'ego certo pennelli pennellini vari attrezzi attrezzini vari ok poi il nostro fimo air immancabile nostro film e per i capelli colori acrilici qua abbiamo tutta la nostra bella scatoletta aiuto sì un po di colla non guasta mai e adesso a portata di mano non ho i glitter ma sicuramente serviranno anche glitter e gli accessori che poi vedete durante durante la trasformazione va bene ragazzi vi lascio al video ciao è proprio crudelia la tua affezionata compagna di scuola crudelia demo ho trovato crudelia demo crudelia demo farebbe paura perfino a un leon al sol vederla muori da prensione crudelia crudelia è più letale lei d'uno scorpione crudelia crudelia demo il nome del cielo dove sono i cuccioli i cuccioli dove sono quei piccoli mostri mancano almeno tre settimane ci vuole tempo per queste cose lo sai anita sei sempre spiritosa vieni qui caro vieni qui crudelia hai una nuova pelliccia il mio unico amore tesoro io vivo per le pellicce adoro le pellicce e del resto esiste una sola donna in questo orrido mondo che non le adori piacerebbe anche a me una pelliccia ma ci sono tante altre cose oh dolce anima candida lo so lo so questa piccola orribile casa e il tuo castello incantato e il povero ru è il tuo cavaliere senza macchia e senza paura crudelia e poi naturalmente ci sono i tuoi piccoli amici maculati sì sì devo dire che hanno un manto meraviglioso non prendi la tazza di te no devo scappare tesoro fammi sapere quando arrivano i cuccioli me lo dirai non è vero? sì certo allora d'accordo ci vediamo tra tre settimane ciao ciao tesoro crudelia fa l'effetto di un demonio e dopo il primo istante di terror ti senti in suo potere e tremi al solvedere gli occhi di felino predator cerca di essere serio crudo inumano crudele vampir dovrebbe per sempre dal mondo sparir che gioia allora che soddisfazione crudelia crudelia demò è proprio crudelia la tua affezionata compagna di scuola crudelia demò ho trovato crudelia demò crudelia demò farebbe paura perfino a un leon al solvederla muori da prensione crudelia crudelia è più letale lei d'uno scorpio crudelia crudelia demò mi la apri la porta stonito tesoro come stai? miseramente cara come al solito superbamente a pezzi dove sono? dove sono? in nome del cielo dove sono? ma chi è crudelia? i cuccioli, i cuccioli dove sono quei piccoli mostri? mancano almeno tre settimane ci vuole tempo per queste cose lo sai? Anita sei sempre spiritosa vieni qui caro vieni qui crudelia hai una nuova pelliccia? il mio unico amore tesoro io vivo per le pellicce adoro le pellicce e del resto esiste una sola donna in questo orrido mondo che non le adori? piacerebbe anche a me una pellicce ma ci sono tante altre cose oh dolce anima candida lo so, lo so questa piccola orribile casa è il tuo castello incantato e il povero Rude è il tuo cavaliere senza macchia e senza paura crudelia e poi naturalmente ci sono i tuoi piccoli amici maculati si, si devo dire che hanno un manto meraviglioso non prendi la tazza di te no, devo scappare tesoro fammi sapere quando arrivano i cuccioli me lo dirai, non è vero? si, certo allora d'accordo ci vediamo tra tre settimane ciao, ciao tesoro crudelia fa l'effetto di un demonio e dopo il primo istante di terror ti senti in suo potere e tremi al solvedere gli occhi di felino predator cerca di essere serio molto inumano crudele vampir dovrebbe per sempre dal mondo sparir che gioia allora che soddisfazione crudelia crudelia de moi è proprio crudelia la tua affezionata compagna di scuola crudelia de moi ho trovato crudelia de moi crudelia de moi farebbe paura perfino a un leon al solvederla muori da apprension crudelia crudelia è più letale lei d'uno scorpion crudelia crudelia de moi nil apri la porta panito tesoro come sta? miseramente cara come al solito superbamente a pezzi dove sono? dove sono? in nome del cielo dove sono? ma chi i crudelia? i cuccioli, i cuccioli dove sono quei piccoli mostri? mancano almeno tre settimane ci vuole tempo per queste cose lo sai? Anita sei sempre spiritosa vieni qui caro vieni qui crudelia hai una nuova pelliccia? è il mio unico amore tesoro io vivo per le pellicce adoro le pellicce e del resto esiste una sola donna in questo orrido mondo che non le adori? eccoci qui allora ho finito crudelia nella sua macchinina che bellina adesso ve la faccio vedere bene come potete vedere è proprio piccolina cioè non so come farvi capire comunque questa qui è una metà della bolle delle lille e dietro c'è l'altra metà poi magari vi aggiungerò delle foto mentre la stavo costruendo la macchinina vi aggiungerò delle foto anzi forse le avete già viste non lo so se le metto adesso o prima no le metto prima così le avete già viste praticamente sto parlando ma le avete già viste allora che dire ragazzi io ne sono felicissima ne sono orgogliosissima è stato è stato un lavoro abbastanza lungo ma molto lungo direi qui c'è anche la targa oddio si è spostata la mezza perla aspettate gli do metto un goccio di colla in più eccoci qua questo è il davanti ci sono poi gli interni al volante c'è la nostra piccola crudeglia guardate quanto è carina amore c'è proprio la faccia da stronzetta eh si lo so che parolacce che non si dicono però voi lo sapete che lei è è la cattiva della favola e c'è proprio la faccia da cattivella eccola qua è bellissima anche lei la rimettiamo al volante della sua mini car eccoci qua guardate quanto è bello gli ho fatto anche gli interni i sedili rossi a me piace tantissimo ragazzi ma io come sapete sono di parte perché comunque insomma l'ho fatta io è chiaro che a me piaccia è stato un lavorone è stato proprio un lavorone però ne è valsa la pena nel senso ne sono felicissima mi piace tantissimo e anche il vetro qua l'ho fatto con la resina UV e anche i triangolini qui li ho fatti con la resina UV per far in modo che sia un vetro vero e proprio eccola la nostra crudelia al volante con la sua sigaretta in mano no ragazzi io ne sono felicissima ho scoperto che mi piace tantissimo fare queste mini mini mondi se così si possono chiamare mini favole ecco le chiamerei mini favole e mini si mini favole mini storie mini favole preferisco e non so il prossimo progetto ne ho un paio già in mente e spero che questa vi piaccia a me piace tantissimo ovviamente anche lei sarà in vendita però non costerà poco questo cioè ve lo dico già subito non costerà poco se non la venderò me la terrò io perché comunque mi piace tantissimo e e niente ragazzi spero che piaccia anche voi quanto piaccia a me e un saluto dalla nostra crudegna ciao guarda quanto è bella al volante della macchinina ragazzi come faccio a farvi capire quanto è piccola sta macchinina con il rullo che uso per il fimo cioè è più lungo è più lungo il rullo che uso per il fimo per esempio no veramente piccolissimo ragazzi ed è bellissimo io sono di parte lo sapete però anche mio marito dice che è bellissima vero Marco è veramente molto molto carina va bene ragazzi io spero che il video vi sia piaciuto e alla prossima al prossimo progetto ciao grazie di tutto scrivetemi sotto se vi è piaciuta e niente alla prossima ciao ciao da Crudelia si